A un incontro importante quello che si appresta a compiere Papa Francesco a Bari. Sabato mattina nel capoluogo pugliese accoglierà i capi delle chiese delle comunità cristiane del Medio Oriente per un incontro storico in un periodo difficile per tante regioni ad est dell'Europa. C'è grande attesa per questo incontro e quello che i capi condivideranno uniti all'insegno della pace. Telepace sarà presente per dare voce all'incontro già da domani sera alle 21 con una trasmissione speciale curata da Giacomo Biancardi aspettando Francesco con diversi ospiti. E poi sabato mattina la lunga diretta a partire dalle 8 circa con i momenti principali della visita del Papa tra cui la preghiera sul lungomare insieme ai fedeli e la visita e la preghiera con i patriarchi nella cripta per la venerazione delle reliquie di San Nicola. Dalle 10 e 30 circa trasmetteremo il momento di riflessione e ascolto reciproco tra il Santo Padre e i capi delle chiese e comunità ecclesiali del Medio Oriente. L'obiettivo è aiutare a portare speranza e pace ai tanti che abitano l'Ada dove il cristianesimo è partito e si è diffuso in tutto il mondo e dove oggi esiste tanta sofferenza.